bella vecchietra, benessimi grazie, siamo tornati con un nuovo episodio del ogni gol che mancava da tanto tempo ormai, vero? c'è tanta una cifra e oggi ci sarà cifra un'altra volta ogni gol tabasco, perchè l'ultima volta lui ha rischiato di vomitare si, perché faccia abbastanza e stavolta vomitare di nuovo comunque ogni gol tabasco ha tre casuali uno, due, tre te ne ripeladina ma che è, dai cioè è uguale paro paro sono deladina sono deladina vai voci mamma mia e la teneforte vincerà subito il tenerife è in possesso vallo, incredibile Vittorio Riccardo vaffanculo non c'è stato ancora per i primi 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 grazie 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 due minuti e venti secondi io stavo cercando di versare il telefono tu sei la buca bene tu sei la bucane tu sei la bucane sapeva non c'è, cioè la bucane va vai vantti che si va un po' subito ti mette a rovesciare incredibile incredibile non è di file bandiere nere per loro i pirati e i carabbi spagnoli vai vai mi hai fatto uno stronzo dove si vede un piccolo colchialino ma io ma colchon due vabbè dai se uno lo mette sopra che schifo guarda la differenza c'è un'idea che ha rimpito ce ne devi mettere più pareggio questo lo voglio fare ma guarda la scienza il sapore del merda in bocca che poi c'è di piano piano mi son immaginato che se faceva così non usciva al poco viviani oh dio oh dio oh dio non riesce a segnare ma città che pure rimane tutto il portiere su e no ho fatto un tiro da centro campo che meritava il gol un altro tiro dal lato maglia maglia guardate che spugio di puro mamma mia ma con chi sto a giocare mamma mia regala va ancora addosso giochi così col cucchino in bocca valiani come si è andato ottimo olivera 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 mangia tanto live guarda che guarda che l'iteri credo se si può una volta così spara dai che schifo da questo tu la segna ma quale tu la segna tu la segna valice alentani alentare ma è partito è partito vita we vita we vita we è partito uodamati 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 io con un nome straniero entra la squadra tua mamma mia santana santana oddio c'è angelo però che gli vorrei chiedo oddio oddio che accelerazione santana santana tenta il tiro mamma mia almeno d'esterno ma me è piaciuto tanto questo tiro ma bello almeno d'esterno ma posso dire che è stato bello come il tiro come il colpo è partito olivera ora lo fa lo facciamo guarda che smugno olivera ahhh oh ho un'idea 3 a cielo 3 a 1 schifo guarda che f***o è parecchio dell'ultimissimo tutti i rimpalli usciere vai mamma mia stavolta mi sa più da Gerardo citazione Marrakesh vai così 3 a 1 com'è Tabasco è buono ci pensa di Gennaro velocissimo santana il tiro guarda che c***o la ribattuta guarda che c***o ma sta zitto stai zitto che tu non meritai un over goal ah certo credi per a c***o vuoi fare giustamente se ne va se ne va se ne va se ne va l'iteri 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 poi so io ma che poi sei di chi ma perché la due i segnali ma f***o aspetta che salgono mamma mia grande apertura otto amati otto amati otto amati il tiro otto amati ma rischia le f***o guarda Diviani che le batte bene Diviani che le batte bene beh beh è l'utere che le batte bene però quello è il problema Vittorio ormai amministra questa vittoria che è arrivata molto agevolmente direi oddio se non era fuori gioco io non lo c'aveva tre palle tu devi essere 4-1 e tu non lo c'aveva tre palle bello fammi apro la botta per dare la palla finisce qui vittoria latina l'abbiamo fatto nero ragazzi e dietro ragazzi mi è piaciuto che stamattina arriviamo a 5000 like e facciamo un altro video di ogni gol consigliateci qua sotto cosa possiamo fare ad ogni gol ovviamente che non l'abbiamo già fatto qualcosa di nuovo dai alla prossima sotto questo è tutto in descrizione like aggiunto i propri rivali i propri Instagram Facebook nostro pagina tutto quanto lasciate un like ciao 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 ciao